Sono Michele Grieco, sono chirurgo generale, mi occupo di chirurgia oncologica e chirurgia dell'apparato digerente a Roma, all'ospedale Sant'Eugenio, dove coordino anche i percorsi multidisciplinari oncologici dei nostri pazienti. Sono qui nella giornata di oggi per conto della Società Italiana di Chirurgia Oncologica, SICO, visto che sono uno dei delegati per la nutrizione clinica. Nelle giornate come oggi è fondamentale collaborare con i colleghi, imparare insieme e crescere insieme, perché un punto che ormai abbiamo imparato e supportato delle evidenze scientifiche è che il paziente oncologico, paziente oncologico puro, candidato a chirurgia oncologica, non può essere più gestito da singoli professionisti. C'è bisogno di una squadra, che lo circondi, una squadra di professionisti multidisciplinare, in cui, come in una squadra di calcio, ognuno ha il suo ruolo. Ognuno si occuperà di una parte del paziente e interverrà quando è il suo momento. Ovviamente quando si lavora in squadra bisogna essere pronti a volte a rinunciare alla giocata personale, aspettare la giocata del compagno, perché l'obiettivo principale è quello del risultato e l'obiettivo del risultato per il paziente oncologico è la guarigione o comunque il miglioramento delle condizioni cliniche. In questo contesto da chirurghi dobbiamo essere pronti a volte a fare un passo indietro e essere pronti a collaborare con i professionisti che ci circondano, gli oncologi, i nutrizionisti, i fisioterapisti, gli anestesisti, per avere come unico obiettivo il bene del paziente. Ormai il supporto nutrizionale in questo contesto sappiamo essere fondamentale. È un punto chiave per il paziente oncologico perché la letteratura ci dimostra che il paziente oncologico ben nutrito ha minori complicanze post-operatorie, ad esempio nel nostro caso, sopporta meglio le cure oncologiche e ovviamente ha un beneficio clinico aumentando la sopravvivenza e aumentando la libertà da malattia. Purtroppo c'è ancora molto da fare perché spesso nei nostri centri, anche nei centri maggiori di chirurgia oncologica, l'assistenza nutrizionale al paziente è omessa. È omessa per vari motivi, è omessa per motivi strutturali, per motivi organizzativi o a volte semplicemente per motivi culturali. Quindi c'è bisogno di cambiare, di cambiare insieme e dare il supporto necessario a questi pazienti perché la chirurgia oncologica e l'oncologia senza supporto nutrizionale è come pensare di poter far camminare una macchina senza la benzina. Anche la migliore macchina senza la benzina non può camminare.